La nostra piscina è una piscina in montagna, siamo a circa 800 metri sul livello del mare, è una piscina estiva comunque, quindi lavoriamo i tre mesi principali, giugno, luglio, agosto, è una piscina piccolina, diciamo di nicchia, frequentata da turisti del nostro appennino e da molte persone della città di Parma che scappano dalla calura per cercare un po' di fresco. Perché avevo bisogno di un supporto al bar che mi aiutasse a gestire tutti gli ordini che arrivavano dai clienti della piscina senza creare assembramenti, soprattutto nei weekend dove si formavano spesso code davanti al bancone del bar e che mi aiutasse anche a ridurre un po' il numero di dipendenti. Smartouch mi ha fornito un router e una stampante con la quale io dentro al bar ricevo, dentro alla cucina ricevo gli ordini e anche dentro al bar e noi li prepariamo attraverso l'applicazione che da qualsiasi dispositivo si può aprire, noi usiamo un tablet semplicissimo al bar, informiamo i clienti che l'ordine è pronto e loro non fanno nient'altro che alzarsi dall'ombrellone, venire da noi, prendere l'ordine, pagare e tornare al loro posto appunto senza nessunissima fila davanti al bancone, questo ci ha aiutato tantissimo. Le persone non devono più attendere, loro mi danno un orario e all'orario preciso io le informo che è pronto, loro vengono, pagano, sono tutti entusiasti, soprattutto ovviamente nei periodi di maggior afflusso, quindi sabato e domenica, non fanno più file, quindi per loro è veramente un valore aggiunto notevole e per noi anche perché non abbiamo più il patema di avere le persone davanti che ti chiedono, che ti mettono fretta anche durante il lavoro che insomma già è comunque dura perché abbiamo tante persone da servire, però in questo modo ci ha veramente agevolato il lavoro.